Il gruppo per il cambiamento a Portoguaro vedeva tra le sue liste nel PDL Pietro Rambuschi che è stato il più votato con 306 voti, un record assoluto, penso anche per il mandamento di Portoguaro, non solo per Portoguaro. Su questo voi avete fatto un vanto o lo davate come per scontato? No, assolutamente, in politica non si dà niente per scontato, è stato il risultato guadagnato nel campo, nel territorio. Piero Rambuschi ha dimostrato di essere ben radicato nel territorio e la cosa importante è che ha preso per ben due volte oltre 300 voti, sia nella scorsa tornata elettorale che in questa. Scusi se la corrego, ma giusto per chi ci ascolta, 295 l'altra volta, 306, ma questo mi serve per un aggancio, 11 voti in più, mentre colui che ha lanciato il guanto di sfida che è Riccardo Rodriguez ne ha avuti 18 in meno, perciò è stata vinta nettamente la sfida da Rambuschi rispetto a Rodriguez che comunque ha fatto un buon risultato ed è riuscito a entrare in consiglio comunale, perciò anche a lui un bravo. Tornando invece a quello che sono i progetti. Scusi se è preciso, 18 in meno dell'altra volta, non 18 in meno di Rambuschi, più di 100 voti in meno di Rambuschi, quindi c'è una distanza abissale. Sì, è notevole la distanza. Per rimanere nel tema di Rodriguez, Rodriguez aveva fatto anche dei commenti non proprio lusinghieri sul vostro gruppo per il cambiamento che l'aveva definito in pratica inutile. Cosa vuoi rispondere su questo? Che l'utilità del gruppo del cambiamento si è dimostrata sul campo, con i voti che ha raccolto. Perché oltre a Piero Rambuschi, come altro candidato, avevamo Passeri che anche lui non è stato eletto, ma per poco. Quindi il gruppo del cambiamento ha raccolto molti voti. Poi queste qui sono polemiche sterili dovute al cannibalismo preelettorale che non fa onore a chi usa queste polemiche per indebolire i propri alleati, non i propri avversari. Gruppo per il cambiamento, quali sono i passi che avete in mente adesso successivi alle elezioni? Cosa avete in progetto? Il nostro obiettivo è la crescita politica e culturale degli aderenti in modo da formare dei futuri candidati degni di questo nome, che siano credibili e radicati nel territorio. La specie è dei candidati opportuni, non dei candidati mercenari che usino la politica come un mezzo di arricchimento. La specie di serbatoio per il PDL anche? Senz'altro, il gruppo del cambiamento fa parte del PDL e all'interno del PDL è legalmente riconosciuto dal PDL, è un club del PDL. Allora mi scusi, ma club della libertà, non è un po' analogo a quello che volete far noi, visto che ha usato la parola club, quello di Silvestrini presidente per capirci. Ma noi ci auguriamo che di questi club ce ne siano moltissimi, non uno, che i vari candidati coagulino intorno a sé il maggior numero di partecipanti, di aderenti che vogliono lavorare per la politica localmente. Noi caldeggiamo la nascita di questi club, non vogliamo l'esclusiva. Allora, in conclusione di questa intervista, voi avete anche un sito internet per chi vuole andare a vedere quali sono i vostri lavori, i progetti e anche azioni, se lo ricorda l'indirizzo o basta mettere sul motore di ricerca gruppo per il cambiamento? Basta mettere sul motore di ricerca gruppo per il cambiamento, si trova subito. Al momento non avete una sede, vi trovate... No, non è neanche necessario, secondo me, una sede, anche perché non è necessario trovarsi di continuo, ci si trova quelle tre, quattro volte l'anno e poi si hanno i contatti, si hanno vari contatti, ci si trova per commentare le situazioni politiche locali e nazionali. Lei prima aveva detto che è da anni che c'è il gruppo per il cambiamento, io ho... so che voi siete nati qua a Portoguaro da poco più di due mesi. Ma quella è la nascita, diciamo, formale, ma in realtà è nata ancora nel 2005. Bene, penso che abbiamo dato un po' di notizie, abbiamo messo anche in campo qualche polemica sollevata in modo che noi non nascondiamo niente e parliamo di tutto e la ringrazio. Grazie a lei.